Uno scudo contro gli attacchi alla rete e i crimini informatici. La Commissione europea lancia un nuovo piano aggiornato per proteggere i siti istituzionali, ma non solo dalle interferenze straniere. Abbiamo registrato un numero crescente di attacchi hacker negli ultimi tempi, che hanno dei target molto sensibili come infrastrutture sanitarie e istituzioni dell'Unione europea, ma anche altre agenzie. C'è ormai consapevolezza che questo è il nuovo campo vulnerabile in cui dobbiamo difenderci. Solo la scorsa settimana ad essere colpita da un grave attacco informatico è stata l'Agenzia europea per i medicinali, che a giorni approverà i vaccini contro il Covid-19. Più in generale, nel 2019 sono state registrate più di 450 infiltrazioni che hanno coinvolto infrastrutture sensibili come il settore energetico e finanziario. La Commissione propone quindi di avviare un network di centri per la sicurezza informatica supportati dall'intelligenza artificiale, per creare uno scudo di sicurezza in grado di prevenire e rispondere tempestivamente agli attacchi. Queste nuove regole si applicheranno a dei settori molto importanti al momento. Basti pensare a quanto è fondamentale proteggere i nostri dati contenuti negli archivi digitali, nel cloud o, e più in generale, nei sistemi informatici dei governi durante questa fase di vaccinazione e tracciamento. Questo passo in avanti è segno che ormai c'è consapevolezza. Per entrare in vigore, il nuovo regolamento sulla protezione delle reti dovrà essere approvato dal Parlamento europeo e poi dalle singole assemblee nazionali.